ciao a tutti sono lino telera e sono qui con andrea mauro tutti e siamo i due lì due dei leader del vmware user group italia e siamo qui per darvi qualche ragione in più su perché dovete iscrivervi a questo vm world che si sebbene sia ancora fatto in virtuale comunque riserva sempre qualche qualche bella novità e soprattutto qualche interessante sessione da seguire quindi lascio subito un attimino la parola andrea giusto perché lui darà un po quello che è una visione delle sessioni un po cosiddette della diciamo parte infrastrutturale di vmware e io cercherò comunque di darvi qualche consiglio e suggerimento sulla parte più nuova che riguarda l'app modernization nella parte su tanzo va andrea ma diciamo che oramai dietro le porte questo vm world e si parla genericamente di vm world online event non c'è ovviamente non c'è la distinzione stati uniti e europa e qui dal diciamo dal 5 al 7 ottobre quindi manca pochissimo e è vero è uno svantaggio il fatto che sia online ma è anche un vantaggio ricordiamoci perché uno se voglio posso partecipare a questo zero e quindi già questo potrebbe essere più che interessante posso seguirlo senza dover mi spostare questo a qualche pregio qualche difetto dall'altra parte come interazione dall'altra parte poi ci sono sessioni nella nostra fascia oraria ci sono sessioni in qualunque fascia oraria praticamente perché è un continuum di dei vari region america europa e apac e quindi non dico che se uno soffre di insonnia può seguirlo ma trovatevi il tempo che volete andate a costruirvi l'agenda l'agenda è disponibile le sessioni sono tantissime come al solito e in realtà poi c'è comunque il problema per alcune della coda che è virtuale ma diciamo che c'è però diciamo che si può gestire in qualche modo certo i topic principali al solito non dico che sono gli stessi ma una vision di bmware più o meno di alto livello che comunque c'è sempre a ogni anno a volte ha dato anche alcune perle interessanti perché progetto monterei come idea curioso è molto bello indica possibile evoluzioni di tutta quella parte che riguarda anche anche lo storage ad esempio e per il resto i topic sono sempre multi cloud dove ci va dentro un po tutto e l'altro ieri sono stati annunciati non ancora rilasciati ma annunciati vSphere 7.0 update 3 e vSAN 7.0 update 3 con evidenti novità tra cui l'inevitabile integrazione con tutto l'ambiente di Tanzu container e così via da entrambe le parti ma anche alcune funzionalità interessanti scalabilità maggiore semplificazione delle operazioni quindi per chi lavora sulla parte strettamente infrastrutturale tutte le sessioni legate a quelli che sono gli annunci già esistenti su vSphere vSAN ma soprattutto quelli che dovranno essere ancora fatti su tutta la parte vRealize dove il multi cloud è lì che si gioca e il vero multi cloud non può essere sulla carta gestisco dei pezzettini solo di bmware o tutto solo bmware spostano in cloud usando vSphere o vCloud foundation ma deve essere anche potersi integrare gestire nel modo intelligente con i cloud esistenti attualmente i cloud pubblici esistenti attualmente certo quella parte lì la domanda che molti molti sicuramente si chiederanno sappiamo che lato corporate c'è stato comunque un passaggio fondamentale cioè nel senso sappiamo che c'è stato un cambio della guardia importantissimo a inizio dell'anno e quindi adesso vedremo questo vm word come dire con un altro ceo possiamo dire due parole anche su di lui sarà una bella sfida si è passati da diversi ceo oggettivamente ognuno ha rappresentato in qualche modo una trasformazione nella visione di vmware ma se vogliamo non guariamo neanche solo il ceo tante altre persone e in testa sono in questi anni cambiati però ogni volta c'è la notizia da poco anche del famoso di kit colbert anche che passa diciamo di ruolo ecco che è un bel ruolo quello che va quello è utile perché effettivamente una persona una figura come lui doveva essere in qualche modo qualificata per avere un impatto maggiore non limitato solo a dal cerco è un po come quando c'era steve erro che in qualche modo era il deox ex macchina per quanto riguardava la parte di strategie tecniche non solo però il nuovo ceo avrà una bella sfida da prendere perché la trasformazione verso un'azienda cloud secondo modello cloud è ormai è avviata inevitabilmente in tutte le direzioni e aggiungiamo la parte di sicurezza che comunque in qualche modo ha dato delle potenzialità VMware non solo nella parte networking, dove è rimasta forte sicurezza più networking, ma effettivamente arrivare a quel modello di dev, sec, ops che tanti hanno ipotizzato con una struttura totalmente software defined e software controllabile effettivamente è il non plus ultra. Possiamo anche aggiungere la crescita costante dei servizi cloud offerti da VMware e non parlo solo di quelli infrastrutturali, e se vogliamo sì sono importanti, ma sono limitati per ora ad alcuni tagli aziendali. Vedo molto interessante invece tutta la proposizione di V-Realize Cloud, tutte le offerte cloud allineate alle offerte on-premises, ma spero che presto diventino non allineate perché le potenzialità di avere motori più intelligenti per fare analisi predictive sugli ambienti sono un punto di forza incredibile. e quindi lì sarà veramente una bella sfida per i prossimi anni a venire. Ecco, quindi diciamo questo un po' si accompagna anche un po' a quella che sono state le evoluzioni dopo che sappiamo VMware ha avuto negli ultimi tempi, e soprattutto questo discorso qui, diciamo delle cloud native application che all'inizio c'erano stati qualche mezzo tentativo, ma oggi sappiamo che la strada consolidata è diventata Tanzu, e quindi sappiamo che Tanzu nelle due versioni quindi si è integrata in ambiente di Sphere 7, che in Tanzu Kubernetes Grid oggi sta diventando uno dei cavalli di battaglia comunque di VMware, soprattutto per quanto riguarda il mondo delle cloud native application. Posso dire che effettivamente anche nello staff, negli stessi staff di VMware, c'è stato un po' un cambio generazionale, e in questo cambio generazionale ho visto nuove figure, nuove persone, che un po' vengono, come si dice, come se fossero stati incubati dalla CNCF, cioè praticamente escono fuori un po' con questi contesti, escono fuori un po' con una cultura diversa, ed è forse secondo me la chiave che VMware vuol dare andando un pochettino a allinearsi con quelli che sono i trendi mercati, questa è una cosa veramente molto importante. Io personalmente poi ho utilizzato Tanzu in entrambe le edizioni, anzi ci tengo, come dire, a fare una nota, avrei una sessioncina anch'io durante questo VMware. Non perdetela. Esatto, non perdetela, basta che cercate nel content catalog in hotelera e la trovate. No, tornando alle sessioni, diciamo, quindi tornando a quello che questo VMware ad offrire in termini di sessioni, giustamente hai accenato tu qua ancora sul DevSecOps, d'accordo, perché oggi comunque il livello di sicurezza deve stare all'interno degli automatismi, deve essere sicuramente un must, perché oggi deliberare applicazioni, infrastrutture senza sicurezza, vuol dire veramente poter chiudere l'azienda dopo poco, perché oggi la sicurezza è una cosa che effettivamente è mandatoria e lo sarà per sempre. Eppure non ci stancheremo di parlare di sicurezza, perché poi è una cosa che non rimane statica, ma si evolve e si evolve con le infrastrutture. Quindi, diciamo, c'è una continua ricerca di questa cosa. Ma rimanendo proprio in focus sulle, diciamo, più che le cloud native app, sulle app modernization, ci sono non so quante sessioni che parlano di app modernization con una serie di use case veramente interessanti. Quindi da chi parte da applicazioni Java, ad applicazioni comunque di qualsiasi tipo, da chi parte da un'infrastruttura, come si suol dire, nuda e cruda, e vuole tirare su un intero stack per le cloud native application. Nella mia sessione parlerò di automation, quindi automazioni all'interno delle cloud native application utilizzando Tanzu Kubernetes Grid. E poi, non da ultimo, anzi, forse è una di quelle sessioni che vi consiglio di seguire sempre che ci sia ancora a posto, che è la roundtable di Eric Shank, che parlerà anche qui, che tratterà, diciamo, tutta una serie di argomenti, addirittura all'interno di questa roundtable, dove sarà presente lui e Tim Carr e parleranno effettivamente un po' di... cioè, più che parleranno, rimarranno in ascolto delle nostre domande. Cioè, nel senso, potremmo fugare veramente qualsiasi dubbio. Tipo... e quindi, secondo me, questa è una sessione che, volendo, potrebbe finalmente essere anche d'aiuto per chi effettivamente sta ancora un po' approcciando questo mondo e quindi non ha ancora ben chiare le idee. Ecco, tutto qui. Ecco, chiarirsi le idee, chiarirsi i dubbi è uno dei vantaggi di questo tipo di eventi. Le sessioni in sé, soprattutto quelle frontali, non dico che si possono rivedere in un altro momento, anche perché tanto non riuscirete a iscrivervi a tutte, e a vederle tutte contemporaneamente. Ma qualunque roundtable, effettivamente, non aspetta la fine, dove magari ci sono pochi minuti per tre o quattro domande e poi è finita lì. E per la personatura è di tipo interattiva o comunque dà degli spunti che non troverete su slide o altri elementi nel momento in cui il VMworld è chiuso e le sessioni saranno rese disponibili. Quindi, effettivamente, guardate il catalogo, trovatevi gli argomenti che vi interessano, pensate anche a come volete evolvere voi da un punto di vista di conoscenza, perché il mondo, informaticamente parlando, oramai ha preso delle accelerazioni che sono effettivamente poco gestibili se non si sta al passo. E approfittate di questa occasione. VMworld all'inizio era virtualizzazione, ma oggettivamente oggi, se uno guarda nel catalogo, come ha detto Lino, solo Kubernetes, cloud native application, sicurezza, è tutto un altro mondo. La parte virtualizzazione, oramai, è una parte importante, quanto volete. infrastrutturale, presto diventerà magari sempre più nascosta, perché c'è, ma in fondo è talmente astratta che potrebbe non essere così importante o potrebbe essere totalmente automatizzata con un infrastructure as a code o con strumenti di questo tipo. DTOPS, queste cose talmente curiose che possono trasformare un'infrastruttura come un qualcosa di meno visibile o comunque meno determinante, purché funzioni, ovviamente. Guarda, Andrea, siamo un attimino in chiusura con questo, diciamo, piccolo momento, questo teaser che insomma vogliamo lanciare. Tiriamo fuori giusto due o tre topic interessanti che sono, allora, in realtà non è una conferenza come eravamo abituati una volta, nel senso che sappiamo che, diciamo, pre-covid eravamo abituati a tutta un'altra atmosfera, a tutta un'altra, a tutta un altro modo di vivere questa conferenza, cioè era effettivamente un tour de force dove tornavamo a casa stanchi, ma soddisfatti e con due piedi da mettere su un bagno di ghiaccio perché non si sa quanti passi facevamo al giorno tra muoversi da una sessione all'altra. quello che si trasportava di gadget o altro libri o... Esatto, e oggi invece stiamo litigando tra un po' quello lì che è un momento che dobbiamo sempre un po' condividere anche con il nostro orario lavorativo, quindi non è che riusciamo in qualche maniera a isolarci completamente dal nostro orario lavorativo, però anche qui guardiamo bene la gente, sceglietevi proprio le sessioni, quelle che, diciamo, vi interessano e soprattutto il mio consiglio, sì, cercate di partecipare ai momenti di interazione e poi, perché no, ci sono anche dei momenti, come dire, un po' più non virtuali, chiamiamolo così, quindi non inerenti alla virtualizzazione o comunque non inerenti all'argomento come per esempio la presenza dei nostri, cioè di alcune special guest che sono state invitate per questo evento, come sappiamo ogni evento grande c'è sempre comunque la presenza di uno special guest, quest'anno abbiamo Will Smith, se non sbaglio, e poi dovremmo avere Michael J. Fox tra le, diciamo, tra le, diciamo, le star, i VIP, che saranno presenti come testimonial comunque di questo evento. Sì, sì, qua si nota la differenza, una volta si puntava sulla band famosa per attirare l'attenzione. Adesso le special guest sono, crescono, crescono molto di più, anche perché è curioso notare che adesso, molti di questi, magari non quelli di questo evento, ma in altri eventi, sono effettivamente degli investitori o promuovono attività di ricerca, ed è impressionante notare come tante persone che uno non ci crederebbe, ma effettivamente sono in quell'ambiente sia da politici che da attori, attrici, quindi è molto curioso anche il loro punto di vista. A volte magari non è neanche tecnico, a volte è da un punto di vista sociale o da un punto di vista di crescita professionale. Però lì è importante catturare un po' quelli che sono i messaggi di vita che dopo poi andremo ad applicare anche nella nostra crescita professionale. Infatti questo è molto importante. In conclusione, proviamo a metterci, diciamo, diamo proprio giusto due riferimenti. Ricordate, se volete iscrivervi c'è ancora tempo, vmworld.com fate il sign up, quindi fate tutta la procedura comunque di iscrizione. fatela comunque perché dopo avete a disposizione l'accesso alle risorse anche se magari non avrete tempo di seguirne tanti, però fatelo. Però insomma provate un attimino a vedere quello che un po' c'è ancora disponibile, fatevi la vostra agenda e una cosa molto importante ricordatevi le date dal 5 al 7 ottobre 2021, orari, potete scegliere gli orari americani, EMEA, insomma potete un attimino gestirvi, ovviamente io e te Andrea saremo sugli orari più o meno americani perché ho già capito che quelli EMEA siamo costretti a lavorare, quindi sicuramente su quelli asiatici, mi svegli prestissimo la mattina. Vi aggiungo ancora un ultimo bit, parteciperò come tutti gli anni oramai non ne ho mancato uno tranne quando non l'hanno fatto, l'Hackathon e che è organizzata ancora in virtual edition, la cosa bella di questo Hackathon è che è un Hackathon worldwide e quindi insomma qualche personaggio, come si dice, qualche famoso dell'Hackathon americano finalmente possiamo scontrarci e su un terreno come dire worldwide tipo volevo citare uno dei bravissimi comunque persone veramente di riferimento nell'ambito americano dell'Hackathon che è Ariel, Ariel Sanchez Mora che lui è effettivamente è una come si dice oramai una leggenda e poi sicuramente anche la giuria di quest'anno dell'Hackathon quindi con la presenza del VMware Code che io ho visto nascere posso dire c'ero anch'io al primo Hackathon durante il VMware a Barcellona nel 2016 è stato il mio primo VMware con il mio primo Hackathon quindi sono state proprio il first time ever e oltretutto e oltretutto ricordo anche di essere entrato un po' diciamo nella famiglia dei Techfield dei Delegate insomma voglio dire ragazzi sono tante cose messe insieme che effettivamente aiutano a crescere però quello che cioè il messaggio che voglio lasciare è sì anche se questo VMware non è il vero evento non è il full event seguitelo partecipate speriamo per il prossimo anno di avere un evento fisico dovrebbe speriamo di essere lì effettivamente in presenza di persona a filmare anche qualche cosa tra come si dice sessioni tecniche interviste interessanti anche qualche funny moment perché no quelli ci vogliono sempre un po' per come si dice per rilassarci e che dire io e Andrea saremo comunque sempre presenti in chat su Twitter potete contattarci farci domande fare domande soprattutto le domande a a chi fa le sessioni mi raccomando saranno anche delle sessioni ask the expert i expert ma in Italia c'è il VMAG quindi sappiate che potete anche contattarci via Twitter esatto rimanete sintonizzati perché ci saranno anche degli eventi del VMAG italiano quindi non non diciamo nulla adesso ma ma state pronti assolutamente in una qualche forma torneremo come ho detto assolutamente però vi lascio con un altro bit tenete presente che ho fatto quella sessione lì punto non vi dico altro quindi avete uno dei presentatori e forse anche il secondo perché l'abbiamo fatto in due anzi tira via forse ci sarà anche il secondo non vogliamo aggiungere altro comunque niente grazie a tutti per averci seguito grazie per aver guardato questo video e niente vi aspettiamo quindi al VMAG non mancate ciao